E' sempre la matematica a fare da padrona. Non bastano le vittorie, solo quei dannati calcoli che ti mettono a rischio qualificazione pur essendo primo. Il Napoli sapeva che non sarebbe stato facile con un girone del genere, ma i risultati straordinari non possono che confermare che la Champions può e deve essere uno degli obiettivi degli azzurri. 3-1 contro la Stella Rossa. Ed ora la gara decisiva con il Liverpool nell'inferno dell'Anfield Road. Vero è che in Inghilterra il Napoli partirà con a disposizione due risultati su tre. Infatti gli azzurri staccherebbero di diritto il pass per il passaggio ai ottavi di Champions. In caso di sconfitta bisognerà fare bene i conti con la classifica. Gli azzurri partono in vantaggio contro il Liverpool per 1-0 dell'andata e in caso di stesso risultato dei Reds al ritorno sarebbe la squadra di Klopp a passare. A quel punto infatti sarebbe la differenza Riti a fare da determinante. Il tecnico Carlo Ancelotti pensa alla buona prestazione dei suoi. Ma è un vantaggio che ci conforta. Inevitabilmente ci conforta soprattutto le prestazioni che abbiamo fatto in questo girone. Siamo una squadra imbattuta, abbiamo fatto molto bene tutte le partite di... soprattutto quella contro il Liverpool. Insomma sappiamo come si fa. E allora con personalità, con coraggio l'andremo a fare e come ho detto senza fare calcoli perché l'ho detto anche ieri questo girone si decide alla fine e si decide per tutti perché anche la Stella Rossa può battere il Paris Saint Germain. Non è che è scontata la vittoria del Paris Saint Germain. Allora fare calcoli ci fa perdere energie. Adesso dobbiamo pensare alla partita di lunedì che penso sarà più difficile di quella che andiamo a giocare a Liverpool. Perciò concentrati per lunedì.